Ciao a tutti, ben ritrovati su Tomb Raider, Randomizer. Oggi ci tocca il primo livello, Caverne. Lo scorso livello è stato bellissimo, è stato veramente veramente bello. Lara è di nuovo con la sua tuta da ginnastica, vedo. Vabbè, tuta casalinga va. Comunque, in ogni caso, lo scorso livello è stata la valle perduta ed è stato molto, molto bello da fare. Ok, intanto ovviamente mi giro intorno perché voglio vedere se c'è il segreto. Ricordo che questo è una Randomizer. Spero che lo scorso livello sia piaciuto anche a voi. Sul serio. Ok. Bene, direi che non c'è niente, quindi posso proseguire. Non c'è nulla. No. Ok, controllo con calma. Bene, posso superare questi. Chissà che nemici ci saranno. Perché anche se è il primo livello, può uscire di tutto. Veramente di tutto. Ok, fino adesso niente. Nessun oggetto, nessun segreto. Ok. Ciao. Zona dove si va avanti. Ovviamente non intendo triggerare niente. Triggerare. Vabbè. Ok. Sorpreso di non aver visto nulla. Finora. Il primo livello è quanti segreti ha 3? Mi sa di sì. Che cosa abbiamo qui? Assolutamente nada. Ok. Forse è la vendetta per aver trovato un sacco di oggetti nello scorso livello. Perché... Wow. Non sto trovando assolutamente nulla. Non c'è nada ni nada. Ok. Ho un bel po' di munizioni. Direi che il fucilone può essere un'idea. Non c'è niente. Non c'è assolutamente niente. Non ho recuperato nulla. Per cui direi che... Non serve neanche che salvo. Vai. Quali nemici ci attendono? Ok. Ok, questa volta la voce era in inglese. Scusate il silenzio ma sono stato molto concentrato. Intanto comunque abbiamo trovato un ratto. Una pantera. E... Il tizio col fucile. Possono essere probabili ulteriori nemici nel prossimo futuro. Ok. Qui non c'è niente. Non ho ancora trovato nessun segreto. E non trovare segreti nel primo livello è veramente triste. Per cui spero di trovarli. Ah, ecco il primo finalmente. Bene. Ok. La porta segreta si trova giustamente alla fine del livello. Perfetto. Almeno uno è andato. Prima di salire qui faccio un salvataggio perché anche qui può apparire un nemico. E' giustamente. E' l'unico segreto del gioco dove potrebbe... Cioè dove appare anche un nemico. Credo. Ok. Una pantera. Ok. Il fucile è potente ma è poco preciso. Comunque mi prendo il piccolo medipack. E' poco preciso perché quando un nemico poi è veloce così è difficile da prendere perché giustamente si gira velocemente. In ogni caso. Segreto numero uno recuperato. Faccio il giro come sempre. Non vedo segreti. Non ne vedo neanche qui. E si prosegue. Lì vedo delle munizioni e naturalmente le prendo. Ok. E qui non vedo segreti. Ottimo. Si continua. Ok. Il primo livello è veramente semplice. Cioè lo so a memoria quasi. Cioè anzi sicuro. Devo soltanto stare attento a tutti gli angoli perché ce ne sono tanti. Come possiamo vedere qui ci sono delle munizioni. Forse avrei tutto randomizzato perché gli oggetti cambiano posizione. Quindi ogni volta che si gioca è un gioco nuovo. Tra virgolette no? Ok. Bene non ho visto questa zona a fondo però. Ok qui pare non esserci niente. No. Bene. Aha. Munizioni per Uzi. Queste sono le più difficili da trovare perché sono grigie. Ok. Vediamo un po'. Qui si cade. Credo che non ci sia niente. Meglio controllare tutti gli angoli però. Ok. Non ho visto i segreti. I segreti di questo livello è lo Shion. Shion non originale infatti. Ok. Mi tengo il fucilone però. Vediamo se c'è un segreto. No non c'è. Ok. Ovviamente anche qui può esserci un nemico quindi faccio un salvataggio. Non sappiamo che nemico si cela oltre la porta. Ok un'altra pantera. Bene. Finché sono pantere col fucilone si fa subito e senza problemi. Bene. Mi sta andando alla grande. Ok. Ok. Pare non esserci nulla. Qui dopo vedremo. Rifare il giro non è così complesso se perdo qualche segreto. Però preferirei non rifare i giri. In totale sono tre segreti ricordo. Ok. Qui non c'è niente. Si prosegue. Allora qui i nemici sono in totale due se non sbaglio. Di norma ci sono due lupi. Però giustamente ora può uscire di tutto eh. Ok. No. Guardate chi c'è. Guardate chi c'è. Oh mio Dio mi colpisce. Ok. Mi ha colpito. Wow. E c'è un ratto con lui. Mi ha colpito. Devo stare attento allora. Da qui mi può colpire. Ok. Lara riesce a beccare il ratto. Mi serve mettermi in un posto più angolato. Ok almeno il ratto lo voglio sconfiggere. Ok. Beh sì. Ok dicevo. Possiamo non riuscire a riprendere da lì la. Wow. Quello sì che ha un sacco di punti vita. Ah mi ha colpito da lì. Non l'avrei mai detto eh. Lo devo assolutamente abbattere però. Wow. Non me l'aspettavo. Beh. Fugge. Vabbè. Prima o poi lo devo abbattere però. Lara dai. Mira. Non lo mira. Troppo lontano. Ok. Dai che ce la fai. Oh my god. Perfetto. Un livello corto che diventerà lunghissimo perché questo qui non si fa prendere. Ok. Da qui ce la faccio. Perfetto. Ma effettivamente perché perdere tempo? Ho un sacco di munizioni magnome e cornetto. Dai. E hanno anche più range d'azione. Cioè di norma non lo farei però almeno un centinaio li uso. Perché dai cent'anni non ci siamo. Forza Lara. Dai. Tanto è lento. Dov'è? Dietro al ponte. Cioè sotto al ponte giustamente. Così è difficile da farsi da farsi prendere. forza. Dai. Che ci siamo quasi. Fatti beccare. Dai. Ok. Quasi sconfitto. Bene. Beccato. Beccato. Boss finale nel primo livello. Boom. Ok. Bene. Ora posso esplorare. Non credo che ci sia niente però. Vabbè la parte in basso lo esplorerò dopo. Sicuro. Non credo di aver visto niente di là. Neh. Dai proseguiamo. Ok. Però faccio un salvataggio perché per battere quel coso ce ne vuole. e non poco. Il boss finale nel primo livello. Ok. Qui non ci sono segreti. Vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Qualcosa che vola. Vabbè. Questa cosa mi fa a fettine se non lo abbatto subito. Ok. Posso azzardarmi a prendermi un medipack. La mia vita è veramente lampeggiante rossa. Quindi non esageriamo con il non vorrei sprecare nulla. Non ho preso quelle munizioni. ma le prenderò. Prima di scendere però voglio vedere questa zona perché mi va. Nel caso in cui contiene segreti fare che non ce ne sono prima di scendere. Vediamo di qua niente niente segreti niente di niente ok. Non ci sono segreti non ne vedo non mi pare ok salvataggio caverne ci sono altri nemici da abbattere qui facilmente dimenticabili perché di solito sono dei semplici pipistrelli però qui possono essere qualsiasi cosa ricordo appena entrerò lì appariranno per cui ok uno è andato di questi ok uno è andato l'altro ah un altro di questi dai Lara possibile che con le magnum non ci riesci ok bene niente sono molto triste perché non riesco a trovare gli altri segreti ho girato tutti gli angoli però vabbè intanto mi prendo queste munizioni non saprei dove altro cercarli i segreti oh ce n'è uno qui ottimo bene ne manca solo uno ottimo dai speriamo di trovarlo ok qui non c'è niente incredibile pensare che qui prima c'era il boss finale allora 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 pare non esserci niente eh ho fatto un giro completo e non vedo niente di da niente di niente nada nisba niente nada nisba vabbè non c'è nient'altro almeno i miei occhi sembrano non aver visto nient'altro speriamo quindi che il terzo segreto si trovi più avanti ops bene e che mi dispiacerebbe far durare il primo livello mezz'ora o più però dovendo cercare in ogni angolo mi sembra anche ovvio giustamente ok queste munizioni non le avevo prese prima bene adesso anche qui ci sono due nemici tutti e due insieme per cui devo stare attento ok musica ratto e tizio con fucilone di nuovo ok il tizio con fucilone lo batto col fucilone dov'è è assurdo questo qui ha un range pazzesco ok adesso qui la musica era appropriata era appropriata era molto appropriata ok non c'è niente pom pom lì vedo però lì vedo però dei medipack è la cosa e la cosa mi piace è un casino speriamo di trovare anche l'ultimo segreto che effettivamente potrebbe nascondersi dietro a delle foglie oh my god speriamo di no sarebbe terribile una cosa del genere però effettivamente potrebbe come nascondersi dietro a delle foglie assurdo una parte di me vuole che sia qui dietro ma ma non c'è no non dirmi che l'hanno veramente messo dietro delle foglie dai che crudeltà se l'hanno fatto ok non ci ho proprio pensato a dover cercare dietro le foglie oh no ok la porta si è aperta si può effettivamente anche riaprire perché c'è una leva qui un bottone questo qua ok qui non vedo niente non vedo segreti neanche qui chi c'è? ok la pantera perfetto il segreto ottimo tutti i segreti di questo livello trovati perfetto ciò significa che posso stare tranquillo oh ora si che sto tranquillo infatti riesco a commentare molto più facilmente perché sono più cioè non devo essere più super concentrato e quindi si ho preso tutti i segreti e sapendo di aver preso tutti i segreti il resto sono solo oggetti secondari e mi va bene che bello eh si siccome ho preso tutti i segreti faccio un bel salvataggio perché potrebbe starci qualsiasi cosa qua eh come nemico c'erano delle munizioni tu 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 musica ok un ratto vabbè vai bene ultimo nemico ratto sbaglio si era messo in piedi una cosa del genere comunque andiamo nella stanza del segreto con tutta la musica superpotente ok c'è un grande medipack delle munizioni per fucile e delle munizioni per usi che non fanno mai male ok abbiamo preso tutto posso aprire la porta verso la fine del livello ok porta di fine livello attivata adesso naturalmente scendo di qua nel caso in cui ci siano oggetti ah no si ce n'è di qua proprio vediamo un po' non vedo oggetti no non ne vedo e qui nemmeno controlliamo se anche qui ce ne sono ma non ce ne sono si finisce il livello caverne nemici 14 e 14 oggetti 22 su 23 segreti 3 su 3 tempo 20 minuti il prossimo livello è è proprio quello è il colosseo già è il colosseo beh non mancate